l'istituto per il credito sportivo anche quest'anno a forum piscine 2020 con i prodotti e finanziamenti dedicati agli impianti natatori in particolare quelli realizzati grazie alla convenzione con la federazione italiana nuoto che consentono a tutte le associazioni e società affiliate alla federazione di avere il muto light 2.0 fsn condizioni agevolate quest'anno in particolare è anche un'occasione quella del forum piscine per parlare di efficientamento energetico di efficienza energetica e per dire che al di là dei prodotti che il credito sportivo gli strumenti che credo sportivo dedicherà particolarmente al finanziamento di tutta l'impiantistica sportiva esistente che è necessario e si deve efficientare è comunque anche il punto di partenza per una strategia energetica la banca pubblica dello sport si rende disponibile per i comuni per quei comuni che hanno intenzione di realizzare operazioni importanti di efficientamento di tanti impianti sportivi realizzare proprio un'efficienza energetica a disposizione della comunità per il tramite degli impianti sportivi sul sito trovate tutti i nostri contatti dal numero verde ai vari contatti dei referenti commerciali di zona quindi su tutte le regioni d'italia il sito è www.creditosportivo.it